Sono stati diramati i calendari dei gironi di serie D. A proposito del raggruppamento F, inizio casalingo per due delle tremoli sane. L'Agnone ospita al Civitelle L'Ostica San Benedettese. Il Termoli aspetta il Chieti di Vittorio Esposito e Luisa Arcamone. Solo il campo basso comincia in trasferta esattamente al Carotti di Iesi. Ci sarà l'esordio in quarta serie dei Rosso Blu. Da sottolineare che le quattro neopromosse del girone F, San Benedettese, Campobasso, Castelfidardo e San Nicolò, partiranno tutte e quattro in trasferta. E allora leggiamo per intero la prima giornata di campionato prevista per il 7 settembre alle ore 15. Fano, Castelfidardo, Amiternina, Pesaro, Celano, Maceratese, Giulianova, Recanatese, Civitanovese, Matelica, Iesina, Città di Campobasso, Fermana, San Nicolò, Agnone, San Benedettese, Termoli, Chieti. Da notare la variazione di orario dalle ore 15 alle ore 14 e 30 dal 26 di ottobre quando sarà l'ottava di campionato. Due le pause previste il 28 dicembre per le festività natalizie, il primo febbraio per il torneo di Viareggio. Per il Campobasso i derby sono concentrati nello spazio di poco più di un mese. I Lupi Rossoblu andranno ad Agnone il 7 dicembre e chiuderanno il girone di andata in casa contro il Termoli appena quattro giorni dopo il capodanno nella prima domenica del 2015. Infine lo scontro tra Agnone e Termoli è stabilito per il 26 di ottobre, ottava di campionato. Il Campobasso è atteso quasi subito da due partite interne consecutive. Alla quarta e alla quinta di andata giungeranno a Selvapiana dalle Marche nell'ordine Fermana e Pesaro. Lo scontro che rievoca vecchi fasti del passato tra San Benedettese e Campobasso è scritto per il 23 novembre al Riviera delle Palme. L'Agnone di Donatelli giocherà due esterne consecutive nel girone di andata tra la quarta e la quinta. Alto Molisani attesi prima dal Giulianova, poi dal Celano di Pasquale Luiso. Infine per il Termoli due esterne consecutive nel girone di andata a cavallo tra la decima e l'undicesima. C'è prima Celano-Termoli, poi Amiternina-Termoli. Inizio dei giochi previsto tra 27 giorni, il 7 di settembre. Chiusura delle ostilità il 10 maggio 2015.